Con due decisioni a stretto giro, il Parlamento europeo ha affrontato due temi importanti. Ha vietato la vendita di auto a combustione interna a partire dal 2035 e ha bocciato la riforma del sistema ETS, il sistema di scambio delle emissioni. Intanto tre inchieste indipendenti fanno luce sull'omicidio della giornalista americano-palestinese di Al Jazeera, Abu Akleh. Io sono Andrea Lecenti, oggi è il 10 giugno 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Sono giorni di decisioni importanti in Europa, da quelle sulle auto elettriche al sistema di scambio di quote di carbonio. Allora, vediamole insieme e commentiamole. Partiamo dalla questione delle auto. Ieri il Parlamento europeo ha votato sì al bando della vendita di auto nuove con motore termico a partire dal 2035, comprese le auto ibride. Da quella data, infatti, sarà possibile vendere solo auto a zero emissioni allo scarico. Vuol dire che, al di là di come viene prodotta l'energia per ricaricare, appunto, le macchine stesse, dalla macchina in sé non esce, appunto, non esce anidride carbonica, non esce metano, non escono gas clima alteranti. Più o meno, in realtà, ci sarebbe da fare un po' alcune precisioni, perché nel caso delle auto a idrogeno, invece, potrebbe succedere questa cosa. Ma vabbè, dopo ne parliamo un po', perché in realtà non è neanche chiarissima la situazione. Comunque, a favore del provvedimento, riporta LifeGate, hanno votato 339 legislatori, mentre i contrari sono stati 249 e gli astenuti 24. Il piano di riduzione delle emissioni avverrà in maniera graduale, secondo appunto quanto previsto dal Parlamento. Il primo obiettivo è ridurre le emissioni medie delle auto del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021, per poi passare, appunto, al 100% entro il 2035. Mentre, per i furgoni, gli obiettivi sono stati fissati al 50% entro il 2030 e sempre al 100% entro il 2035. Comunque, significa che entro il 2035 tutte le auto e i furgoni di nuova immatricolazione dovranno produrre zero emissioni di CO2 allo scarico, mentre i venicoli già immatricolati potranno continuare a circolare, appunto, fino a fine vita. Il che sembra una cosa banale, ma in realtà è comunque importante anche questo, perché, come sappiamo, a meno che non si faccia un uso molto, molto assiduo della macchina, fino a prova contraria, e visto la quantità di emissioni che al momento sono necessarie per, e di energia, per produrre una macchina nuova, è importante comunque portare a fine ciclovita il nostro veicolo, prima di comprarne uno, appunto, eventualmente elettrico, che nel caso di un'auto nuova sicuramente è la migliore scelta, o prima di scegliere di non avere un'auto, che è ancora una scelta più ecologica, ovviamente. Comunque, c'è un punto abbastanza strano e incongruente legato all'idrogeno, prima, insomma, accennavo alla questione, ma è strano perché i giornali italiani, molti giornali italiani, riportano una notizia dicendo che, parlo dal fatto quotidiano LifeGate, che dal 2035 le uniche auto autorizzate ad essere vendute saranno quelle 100% elettriche, forse è un modo di escludere le ibride, che vengono escluse dal provvedimento, ma con questa dicitura si escludono anche le auto a idrogeno, mentre Wired, invece, ad esempio, riporta che saranno consentite anche le auto a idrogeno, e credo che sia corretta quest'ultima versione, nel senso che poi, ovunque ho letto, anche pezzi della normativa, non c'è nessun riferimento al fatto che vengano escluse anche le auto a idrogeno, anche se poteva essere un'idea, ma comunque si sa che la linea dell'Europa sull'idrogeno ancora è abbastanza standard, e probabilmente non ha preso contezza delle ultime novità sull'idrogeno, appunto le ultime scoperte, che vedono anche in questo gas un potente fattore dal punto di vista del cambiamento climatico. Comunque è un voto importante, soprattutto perché il Parlamento è riuscito a respingere la classica valandaga di emendamenti che a volte, come vedremo nella seconda notizia del giorno, riescono a stravolgere le intenzioni originali del legislatore. L'unico emendamento che in qualche misura depotenzia ed è passato è quello cosiddetto Salva Ferrari, che prevede un'aderoga per i piccoli produttori di auto e furgoni, ovvero produttori che realizzano dalle 1000 alle 10.000 unità all'anno, fino al 2036. e l'obiettivo di questo emendamento è tutelare i piccoli produttori, in particolare la cosiddetta Motor Valley dell'Emilia Romagna e in particolare ancora di più Ferrari e Lamborghini, quindi è probabilmente una richiesta specifica che è arrivata anche dal nostro governo. Mentre invece sono stati respinti i due emendamenti più pericolosi, ovvero la possibilità di includere i biocarburanti fra le alternative per ridurre le emissioni, come avevano richiesto anche qui alcuni politici italiani, cosa che sarebbe stata danosissima, perché sappiamo al di là dell'impatto del biocarburante nella combustione, ma soprattutto quanto impatta a livello di consumo di suolo, che sono robe abbastanza assurde. E il secondo emendamento importante che non è stato accettato è quello per la riduzione del target al 2035 dal 100% al 90%. C'era stata appunto una corrente che chiedeva di ridurre l'obiettivo del 2035 e non passare al 100%, ma limitarsi al 90%, cosa che avrebbe permesso di vendere anche i veicoli termici e ibridi per un po' di tempo in più, assicurando la sopravvivenza di tutto il settore della componentistica, tipo propulsori, bielle, pistoni. Cingolani ovviamente si era schierato fra quelli che chiedevano misure più blande, non ce ne stupiamo particolarmente, che favorissero l'industria dell'auto tradizionale. Il motivo sarebbe non penalizzare troppo l'industria automobilistica italiana, soprattutto appunto quella della componentistica, perché scrive il Corriere che secondo Anfia, che è l'associazione dei componentisti, le aziende che producono parti per il motore endotermico, quindi delle auto attuali, quelle che vanno a benzina, a diesel e così via, rischiano 70.000 posti in meno di lavoro in un settore che nel complesso ne garantisce 161.000. In Italia stiamo parlando. Per fare un'auto elettrica infatti serve il 30% di lavoro in meno, dato che i iniettori, i pistoni, i cilindri non servono più, e quindi serve meno lavoro o servono meno componenti. Ora, due considerazioni. La prima è che il problema è un po' sempre il solito, cioè noi una transazione ecologica veloce e profonda la dobbiamo fare, per forza non abbiamo tante alternative se vogliamo continuare ad abitare questo pianeta. Poi è ovvio che questa transizione ci pone un sacco di sfide enormi nel campo del lavoro, dell'economia, delle relazioni, della governance, della società nel suo complesso. È tutt'altro che facile, è molto complesso attuare una transizione di questo genere, ma la volontà, il fatto che si debba fare, deve essere la precondizione delle nostre azioni. Sulla base di questa precondizione poi possiamo trovare delle soluzioni agli altri problemi, che vanno comunque considerati, ma dobbiamo metterci una E, dobbiamo compiere la transizione ecologica e possibilmente farlo anche in maniera più equa, felice, condivisa e tutte le cose che ci volete mettere, è possibile. Io credo che se sei il ministro della transizione ecologica, non so, mi aspetto che ragioni un po' così. Cingolani sembra invece ragionare un po' al contrario, mettendo tutto come premessa, quindi lo status quo dell'economia, del lavoro e così via, a quello sono tutte le premesse che non si possono toccare e lasciando la transizione, il margine risicatissimo che resta escluso da tutte quelle robe là, che praticamente non è quasi niente. Solo che poi così, quando vai a fare i conti alla fine, non è che funziona così tanto. Poi c'è una seconda considerazione importante da fare, secondo me, relativa alle auto elettriche, che al momento sembrano essere l'unica alternativa sostenibile per quanto riguarda la mobilità. Certo è che, come ripetiamo spesso, non possiamo neanche immaginare di fare una transizione o una sostituzione uno a uno del parco auto tradizionale a combustione interna con l'equivalente in auto elettriche, per una media questione di energia grigia e consumo di risorse. Però, al dentro di questo, di sicuro dobbiamo abbandonare il prima possibile le auto a combustione interna. Quindi il fatto che l'Europa abbia messo un divieto formale alla vendita di auto a combustione interna, credo che sia un pezzetto, un passaggio fondamentale. Quindi, tanto di cappello. Passando alla seconda notizia, dicevamo, sono giorni concitati e il Parlamento ha votato anche sul sistema ETS, ovvero quel sistema che dovrebbe regolare le emissioni e la loro progressiva riduzione fino all'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 all'interno del recinto dell'Unione Europea, del recinto comunitario. I deputati europei, però, in questo caso, hanno deciso di respingere la relazione sulla revisione dello EU Emission Trade System, ovvero il sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea. Come mai è successa questa cosa? Provo a spiegarvelo. Allora, l'ETS è il sistema di scambio di emissioni che già oggi regola le emissioni all'interno dell'Unione Europea. è stato istituito nel 2005 ed è stato il primo sistema al mondo di questo tipo qua. Il concetto di base è che ogni paese e poi a cascata ogni azienda inquinante, mettiamola così, può acquistare quote di emissioni all'interno di questo mercato europeo. Per cui le aziende virtuose e gli stati più virtuosi possono vendere le quote che gli avanzano alle aziende o agli stati che invece sono più inquinanti. Il totale, però, delle quote sul mercato anno dopo anno va diminuendo. Per cui si ipotizza che le quote stesse diventino sempre più care e quindi per le aziende diventi sempre più sconveniente continuare a emettere sostanze o gas clima alteranti e questo dovrebbe essere un incentivo a diventare via via sostenibili e poi le quote tendono verso zero arrivando al 2050 e quindi a quel punto non ci sarebbero più emissioni in Europa. Ora, sulla carta funziona tutto bene come sempre poi la realtà ci dice cose diverse per cui ci sono tutta una serie di falle, di buchi all'interno di questo sistema di cose che non stanno funzionando e la riforma in questione era partita appunto con l'idea di tappare alcune di questi buchi. Uno di questi consisteva nell'abolizione delle quote gratuite di cui attualmente gode la grande industria. In pratica le industrie in base alle proprie dimensioni hanno delle quote gratuite e devono pagare solo per quelle che superano quella quota. Come se ci fosse un po' una base di emissioni accettabili e io pago solo per quelle extra. La riforma voleva eliminare questo aspetto però una serie di emendamenti approvati in Commissione Ambiente grazie, come riportano i giornali, a un'alleanza tra destra liberale e estrema destra ha fatto sì che questo punto fosse in realtà molto annacquato al punto che in plenaria poi il Parlamento ha votato contro questa riforma che così depotenziata non aveva molto senso e l'ha rispedita nelle mani della Commissione con il messaggio allegato di ripensarla, insomma rivedere alcuni punti e renderla molto più ambiziosa. Il che anche in questo caso direi è una buona notizia per quanto questa riforma sia sicuramente necessaria ma approvare una riforma debole probabilmente è peggio di non approvarla proprio e rimandarla di qualche mese. In conclusione invece torniamo a parlare dell'uccisione della giornalista Abu Akleh che è la giornalista palestinese americana colpita da un proiettile a Yenin in Cisjordania durante un'operazione israeliana e lo facciamo guidati dall'editoriale di Giovanni De Mauro direttore di Internazionale che riprende tre inchieste di tre giornali differenti che concludono tutte più o meno la stessa cosa ovvero che la giornalista è stata uccisa in un attacco mirato da parte delle forze israeliane. Praticamente i tre giornali sono l'agenzia di stampa statunitense Associated Press la rete televisiva statunitense CNN e il gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat che non hanno potuto esaminare in realtà direttamente il proiettile che ha colpito Shirin Abu Akleh ma hanno raccolto e analizzato decine e decine di testimonianze dirette video registrazioni audio le hanno incrociate verificate geolocalizzate per poi sottoporle all'attenzione di tecnici ed esperti di esplosivi e di armi insomma da tutta questa analisi molto approfondita è fatta molto bene sembra che la giornalista sia stata uccisa la mattina dell'11 maggio a Jenin in Cisgiordania da parte appunto dei soldati israeliani che l'avrebbero colpita in modo deliberato quindi non casuale non per caso perché per vari motivi perché indossava un giubbotto antiproiettile con scritto press a caratteri cubitali è stata colpita da un unico proiettile che l'ha colpita vicino all'orecchio in un punto non protetto che si trova esattamente fra l'elmetto e il giubbotto insomma tutto lascia pensare che non sia stato un caso e non è la prima volta che succede come fa notare lo stesso De Mauro perché in un articolo uscito online sempre su Internazionale la giornalista Catherine Cornett ci ricorda che secondo la International Federation of Journalists almeno 46 giornalisti palestinesi sono stati uccisi dalla Forza Armata israeliani negli ultimi vent'anni quindi non è una cosa nuova solo che come fa notare Sergio Ferrari sulla sua pagina Facebook giornalista ambientale i giornali italiani non stanno dando alcun risalto mentre hanno parlato molto della morte della giornalista non stanno dando alcun risalto a queste nuove inchieste forse perché appunto viene ribaltata un po' la categoria le categorie preconcette di buoni e cattivi che sono molto radicate nella stampa nostra va bene detto ciò io direi che vi saluto vi do appuntamento al lunedì con una nuova puntata di me rassegno sempre a partire dalle 8 su canale YouTube Spreaker e Spotify nonché sulla pagina rassegna stampa e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto